Soluzione numero 1 di Excel per andare a rimuovere i duplicati da un elenco di valori. Vediamo l'esempio. Ho questa tabellina di due colonne. Andiamo a selezionare il perimetro a noi interessato oppure le colonne. Andiamo nel menu dati, strumenti e dati, rimuovi i duplicati. Qui possiamo decidere come agire con la rimozione del duplicato. Quindi possiamo decidere se includere nell'analisi anche l'intestazione delle colonne oppure escluderla. E poi dobbiamo dirgli su quale colonne deve ragionare per rilevare il duplicato. Ad esempio qui se selezioniamo città e feedback l'unico duplicato che troverà sarà Palermo positivo. Se invece togliamo il feedback ragionerà solo sui duplicati che trova nella città. Quindi vedremo che Torino avremo una sola riga e su Palermo otterremo solo una riga. Vediamo che è Torino positivo, Palermo negativo. Quando premiamo ok ecco che abbiamo una rimozione dei duplicati e otterremo in risposta solo la riga duplicata che ha letto per primo.